La giunta regionale del Veneto ha deliberato uno stanziamento straordinario di 50 milioni di euro per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova. Con un'altra delibera, la stessa giunta, formalizzato con una presa d'atto, l'accordo in materia siglato lo scorso 21 dicembre dal presidente Zaia e dal sindaco di Padova, Sergio Giordani. Il provvedimento che stanzi i 50 milioni di euro è stato adottato sulla base della legge regionale 32 del 2016 che ha previsto uno stanziamento triennale di 150 milioni complessivi per gli anni 2017, 2018 e 2019. L'importo è stato assegnato all'azienda ospedaliare di Padova, reperito nell'ambito del fondo sanitario regionale e verrà materialmente erogato dall'azienda Zero per stato di avanzamento lavori.